Ragazzi, questo è un video super flash per darvi soltanto una notizia che magari non tutti quanti sanno. Per esempio, io che vivo nel mio mondo delle nuvolette, non la sapevo e che l'ho scoperta, quindi penso che sia importante condividerela con voi. Ovvero, ho trovato nella libreria Mondadori del mio paese, che è appena aperto, un'offerta della Tusken, veramente ottima, cioè la Tusken per il 25esimo anniversario della nascita della casa editrice ha proposto una serie di libri, dei suoi libri, quelli dedicati agli artisti, i movimenti artistici, le monografie, queste cose qua, di solito libri ottimi, che di solito sono costosissimi, li ha proposti a 9,90€. Ed è una promozione che fa e che, da quello che ho capito, c'è già da un bel po', e che da quello che ho capito durerà per tutto quanto l'arco dell'anno, portando continuamente fuori nuove cose. Quindi io, che io non sono una abituale frequentatrice delle mie librerie Mondadori, perché appunto, vivendo in una cittadina abbastanza piccola, non c'era questa libreria, e poi, adesso non per fare cattiva pubblicità a Mondadori o a pubblicità ad altre librerie, ma generalmente prediligo altri tipi di librerie. Ecco, di solito ho librerie molto più piccole, mi piacciono di più, piuttosto che le librerie quelle grandissime, super commerciali. Però, in questo caso, me la sento di dire questa cosa perché è veramente vantaggiosa, soprattutto per gli appassionati d'arte che, cioè, se siete come me, insomma, impazzite di fronte a questa cosa qui. Io, infatti, ho comprato la monografia su Hopper, che è veramente uno dei miei pittori preferiti. Sono veramente ottime queste qua, la Tuscan. Ok, adesso la qualità dell'immagine sarà scarsissima, perché sono in modalità ripresa veloce. Comunque, ho preso Hopper e ho preso Tf, che è un fotografo, a mio parere, eccezionale. Vedete, c'è anche scritto qui, 25, special price, della Tuscan. Quindi, niente, ragazzi, cioè, io ve li consiglio, se sicuramente conoscete già questo tipo di libri. Hanno delle immagini bellissime, risoluzione alta, immagini grandi, belle. Sono libri da collezione, praticamente. E poi, comunque, all'interno trovate anche vita, morte e miracoli degli autori, dell'autore o dei vari movimenti, eccetera. Per esempio, quello di Hopper, lo sto leggendo, è veramente valido, fatto bene. Ragazzi, ve lo dico come proprio a titolo informativo, sempre per l'idea che il canale YouTube deve servire a diffondere il più possibile notizie, che magari uno da solo non farà più fatica a reperire. Basta, fatemi sapere se avete già acquistato alcuni di questi libri, se avete i miei stessi libri. Oppure se teniamoci in contatto per questa cosa, cioè, se ne escono altri. Insomma, tutto qua. Vi saluto, un bacio e alla prossima. Ciao!